salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi andremo a fare un video tutorial su come stampare su legno una procedura ragazzi semplicissima e molto economica andremo ad avere un risultato tipo questo quindi secondo me un bellissimo oggetto da regalare magari a una nonna con la foto del nipotino a un parente a un amico con una foto particolare o addirittura andare a stampare le foto dei nostri amati droni quindi adesso in questo caso magari la dimensione non è grande magari stamparla su un visto che comunque la carta che andremo ad usare è un foglio a quattro si può stampare una bella foto grande anche di un paesaggio ripreso con i nostri droni cioè l'effetto è sicuramente ottimo perché vedete che è stampato su una tavoletta di legno e la cosa bella è che non si rovina perché comunque andremo a mettere un lucido protettivo che la protegge ed è comunque con pochissima spesa questo risultato quindi adesso ragazzi vi spiego cosa serve allora innanzitutto serve la carta epson per le magliette una carta che costa circa 18 euro 10 fogli vi lascio il link di amazon in descrizione per acquistarla quindi non è particolarmente costosa perché comunque possiamo stampare magari anche due foto sullo stesso foglio se facciamo foto di queste dimensioni o una bella foto grande se vogliamo avere un bel quadretto comunque la spesa non è esagerata per il risultato che andiamo ad ottenere poi ovviamente serve una tavoletta di legno tipo questa che potete prendere dalle roa marlene piuttosto che un brico alla fine un compensato o anche un multistrato va benissimo o se avete qualcuno che lavora nel campo della falegnameria ve lo può procurare gratuitamente che magari sono scarti tipo a me me l'ha procurata mio cognato che lavora in una fustelleria questi qua sono i loro scarti di lavorazione quindi non li ho neanche pagati ovviamente non posso scegliere la misura però mi trovo varie misure a cui poi vado ad adattare la foto però visto che poca spesa tanta resa meglio così poi serve un lucido acrilico per il risultato finale poi vi lascio il link di amazon anche del lucido e ovviamente serve il nostro amatissimo ferro da stiro che servirà per ovviamente andare a trasportare la foto stampata sulla carta per magliette sul legno e non per ultimo serve il taglierino per andare a rifilare la foto che andremo a stampare sul legno quindi ragazzi questo è tutto quello che serve come avete visto la spesa è veramente minima stiamo parlando di circa 18 euro per 10 fogli di magliette il legno in base a dove lo trovate però stiamo parlando sempre di cifre abbastanza ridicole quindi non cifre importanti il risultato secondo me è bellissimo per andare a fare un regalo adesso non so se così la vedete meglio per fare un regalo ragazzi veramente poca spesa tanta resa e soprattutto facile da fare la cosa bella è quella che veramente chiunque che abbia una stampante a getto d'inchiostro quindi può stampare su questa carta e stamparsi la foto sul legno quindi non bisogna avere nessun accessorio particolare perché ormai la stampante a getto d'inchiostro ce l'abbiamo in casa quasi tutti quindi non è un prodotto che hanno pochi o bisogna acquistare magari un prodotto apposta no ragazzi la nostra stampante carta che si acquista normalmente su amazon un lucido che si acquista su amazon quindi veramente praticissimo e soprattutto facilissimo il procedimento quindi adesso passo passo iniziamo a stampare le nostre foto su legno la prima cosa da fare ovviamente è andare a prendere la foto e andarla ad adattare come misura al pezzo di legno ovviamente che abbiamo quindi vado a selezionare questa foto per esempio e la mia tavoletta di legno è 15x15 quindi cosa andrò a fare andrò ad ottenere una foto che sarà tipo magari 16x16 per avere poi la possibilità di andare a rifilarla con il taglierino perché se la faccio troppo precisa poi è difficile magari tenerla ferma magari dopo rimane un po di legno scoperto quindi andiamo a farla magari un pochino più abbondante quindi direi un 16x16 va più che bene quindi andiamo a fare un 16x16 vedete che io adesso faccio 16,18x16,2 quindi va più che bene per quel lavoro che devo andare a fare io a questo punto andiamo a stampare la nostra foto quindi andiamo a stamparla questo un altro passaggio da tenere in considerazione perché è molto importante la qualità su questa carta diciamo per magliette io di solito stampo alla qualità massima quindi selezioniamo tipo di supporto io seleziono foto e la qualità io lascio massima a questo punto facciamo stampa e andiamo a stampare la nostra foto sulla nostra carta fotografica quindi vanno bene qualsiasi tipo di stampanti vanno bene praticamente tutte per fare questo lavoro adesso sentite che sta stampando almeno penso che lo sentiate quindi andiamo a stampare la foto e poi iniziamo il processo di stampa sul legno quindi adesso aspettiamo che stampa la foto e poi iniziamo a lavorare ok ragazzi abbiamo ottenuto la stampa adesso andiamo a ritagliare la carta in eccesso poi ovviamente se i pezzi di legno che avete sono più piccoli potete fare stare due foto nel nel foglio di carta ovviamente quello mi sembra abbastanza logica come cosa per non sprecare ovviamente la carta che non costa uno sproposito ma comunque ha un prezzo abbastanza importante perché costa intorno ai 18 euro 10 fogli poi vi lascio il link in descrizione su amazon quindi adesso abbiamo come vedete la foto pronta per essere stampata sulla nostra tavoletta di legno a questo punto andiamo ad accendere il ferro da stiro aspettiamo che il ferro da stiro vada in temperatura lasciamo la temperatura massima intanto andiamo a posizionare la nostra foto anzi mettiamo giù la foto poi ci mettiamo sopra la tavoletta da centrarla lasciando un po di margine sopra e nei lati quindi una volta che abbiamo fatto questo procedimento andiamo a ribaltare il tutto ok e appena il ferro da stiro è arrivato in temperatura andiamo ad attaccare la foto sul legno ok il ferro da stiro è arrivato in temperatura adesso andiamo a stampare quindi andiamo a premere con abbastanza forza non a pressione ultra forte ma si preme abbastanza insistentemente io di solito con questo ferro da stiro vado dai 10 ai 15 secondi non di più perché sennò si va a cuocere la stampa e inizia a rovinarsi andiamo bene nei lati così attacca bene ai bordi quindi 10 15 secondi al massimo dopodiché ci fermiamo a questo punto non ci resta che andare a ritagliare il bordo questo punto la carta in eccesso l'abbiamo tolta e abbiamo la nostra foto attaccata sul legno aspettiamo che si raffreddi un po la carta già adesso inizia a essere abbastanza fredda quindi avete visto che ora che tagliamo il bordo o meglio che tagliamo la carta in eccesso già la carta inizia a diventare fredda a questo punto non ci resta che andare a togliere il retro della carta quindi andiamo a sollevare la pellicola bianca facendo attenzione di non andare a rovinare la foto che c'è sotto quindi delicatamente andiamo a togliere la pellicola e a questo punto abbiamo già diciamo il primo effetto della foto adesso non ci resta che andare a mettere l'effetto finale cioè il lucido che poi andrà a rendere la foto diciamo così allora quindi adesso andiamo a mettere il lucido agitiamo la bomboletta poi vi lascio il link in descrizione anche del lucido da andare a mettere quindi andiamo a spruzzare un po di lucido ok abbiamo messo il nostro lucido adesso non ci resta che aspettare che il lucido asciughi e otterremo il nostro risultato finale quindi adesso aspettiamoci il lucido poi dipende dalla temperatura che c'è dall'umidità che c'è quindi potrebbe metterci un'oretta o magari anche meno o magari anche di più quindi adesso non ci resta che aspettare che asciughi il lucido ok ragazzi il risultato finale è questo adesso non so con i riflessi delle luci ovviamente non so come lo vedete voi se magari vi crea qualche riflesso strano che comunque faccio tutte le luci per illuminare l'ambiente per la fotocamera quindi non so se magari lo vedete bene o male ma vi assicuro che il risultato è più che ottimo poi ovviamente in base anche la finitura che ha il legno sotto il risultato finale sarà più o meno di un determinato tipo nel senso che se il legno è molto liscio e levigato poche venature avrà un risultato di un certo tipo se invece ha qualche venatura qualche striatura il legno ovviamente si vedrà nella foto però è anche il suo bello perché comunque la stampa su legno non è la stampa su un foglio di carta o su un cartoncino dove è tutto bello perfetto secondo me l'imperfezione che si va a creare in determinati punti dovute appunto al legno e anche il suo bello e il suo fascino di stampare sul legno quindi ragazzi avete visto come semplice ci vuole veramente pochissimo tempo in dieci minuti stampate una foto sul legno forse anche meno no dai dieci minuti calcolando il taglia sposta via dicendo poi un attimo aspettare che si asciuga il lucido poi quello che ve l'ho detto dipende può metterci mezz'ora un'ora dieci minuti in base all'ambiente all'umidità il calore che c'è e a quanto poi gliene avete anche messo perché magari se esagerate un po ci mette di più comunque il risultato finale ragazzi sono questi e secondo me davvero belli da regalare perché veramente con poca spesa si fa un regalo che può piacere molto a certe persone e soprattutto un regalo particolare si vedono spesso questi oggetti quando si va in ferie nei negozietti che producono cose in legno cose artigianali che vi stampano la foto loro magari hanno un altro metodo non lo so però con il mio metodo si può fare a casa si spende poco ed il risultato finale è veramente top quindi ragazzi se questo video guida in cui vi ho fatto vedere come stampare le foto su legno vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerta se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial ciao